Un saluto a tutti i telespettatori di Liberi.tv, siamo qui alla presentazione del romanzo cosmico in che mondo viviamo e sono in compagnia di una collega, non perché professoressa di lettere, docente, scuole superiori, ma collega soprattutto, secondo me, nella sensibilità. Cioè anche qui abbiamo Maria Rosario De Simone che è una scrittrice, quindi un'autrice che viene ad ascoltare un altro scrittore in questo scambio che è una sinergia, che è un dialogo. Ma diciamo, avendo conosciuto il Pierpaolo Segneri a scuola, allora la professoressa De Simone, come collega invece docente, che cosa dice di questo professore? Allora, io e Pierpaolo siamo dei professori un po' particolari perché siamo degli ottimisti. A scuola portiamo il sorriso che non è cosa da poco, è vero, i ragazzi sono contenti, studiano e forse, forse, e io sono scrittrice, uscirà presso un mio giallo, tu pure scrittore con questo meraviglioso libro che è fantastico, forse possiamo rompere questo muro della lettura perché tante volte la scuola, non so se sei d'accordo, io credo di sì, distrugge proprio la lettura, riempie così tanto di regole, storia della letteratura, copre proprio con tanti orpelli quella che è la pagina letteraria di qualsiasi autore. E noi stiamo distruggendo il vecchio modo di insegnare e portando un nuovo modo, credo, che è un full immersion. Vuoi prendere una pagina a caso? No, sì, le leggiamo, ma la cosa importante è che mi spinge a ricollegarmi alle parole di Maria Rosaria è il fatto che comunque c'è un elemento emozionale, emotivo a scuola che i ragazzi ti regalano, ti offrono e la lettura è soprattutto emozione, è soprattutto sensibilità, è soprattutto trasmissione, comunicazione. Oggi viviamo nella società della comunicazione e quindi riscopriamo forse invece l'origine più bella. Ma soprattutto la lettura apre delle finestre. Noi abbiamo i ragazzi che tante volte hanno i cieli chiusi, anche noi stessi, no? E leggere, aprire un libro è come trovare un'apertura, una speranza al futuro, oltre che imparare e forse capire che cosa si vuole fare della propria vita. I libri sono anche degli amici. Proporre letture, proporre autori è importante. Visto che nessuno ci legge, intanto ci leggiamo tra di noi, nel senso che oggi davvero sono tanti gli scrittori e tutti hanno tante cose da dire, la cultura si è ampliata, però i lettori sono pochi. Questo forse è anche un invito a leggere, perché leggere è un mondo meraviglioso. Non a caso, volevo dire, la copertina infatti è stata scelta da uno studente di ieri, del sottoscritto, ma ha scelto lui di fare un occhio, cioè l'occhio del bambino. Va bene, adesso noi iniziamo, poi ci rivediamo, buona lettura e grazie davvero. Grazie a te.